ben ritrovati pinguini oggi vi do una notizia veloce veloce perché mi trovo in viaggio di lavori l'europea ha trovato la legge per quanto riguarda il connettore dei carichi a batteri dei dispositivi elettronici e quindi avremmo tra qualche anno solo usb c una cosa bella una cosa brutta andate a guardare il mio video che tra l'altro era il mio primo breaking news quindi cavi come questi c'è per esempio il lightning di apple sono destinati all'estensione come dinosauri lasciando posto a cavi come questi consigli da aspettare gli aziende di dispositivi elettronici piccoli dovranno adeguarsi entro la fine 2024 invece le aziende per dispositivi più grandi laptop hanno circa 40 mesi di tempo quindi più di tre anni per adeguarsi siete contenti vi piace questa proposta o la trovate una sciocchezza fatelo sapere nei commenti e ci vediamo col prossimo video ciao